Se metti un post su Facebook e mi vuoi taggare, che di solito sono delle foto dove ci sono dei cessi, sono sempre dei cessi, perché tanto ti ho fregato, e allora dici cosa faccio? Cago, mi faccio un selfie e lo metto su Facebook. Devo farlo vedere su Facebook e sono cose da pazzi! Quella è la merda! Quella è la merda! Che puzza! È sempre colpa di sgarbi! Arpente la finestra! Ma sono andato una volta sola, non è che sono sempre in gabinetto. E poi non mi sono fatto un selfie anche perché non si vedeva niente. E poi se avessi voluto farmi una foto, l'avrei pubblicata su Instagram. E niente! Anche io mi volevo fare una foto. Stavo sul gabinetto, c'è stato un colpo di vento e il cellulare mi è caduto dentro. Stai attendo a fare le foto con il cellulare dentro di Cess, perché poi ci entra l'acqua. Stamattina, quando ho postato la foto, non ho tirato lo sciacquone. Eeeh, lo sciacquone! La foto con il cellulare in due bagni non l'avevo mai fatta, capito? Prima la pubblica, dopo metto tag, poi diventa virale. Io non lo so come l'avevo pubblicato. Non lo so come l'avevo pubblicato, non lo so come l'avevo pubblicato.